Rifondazione Comunista chiede l'Election Day di non votare a febbraio, di accorpare le elezioni per risparmiare 6 milioni di euro. Ci sembra assolutamente insensato, contrario alla democrazia, uno spreco enorme di denaro pubblico, votare il 10 febbraio, nel periodo più freddo dell'anno, in una regione che ha aree interne in cui a gennaio-febbraio si producono fatti che conoscete tutti, con la neve e le difficoltà. Questo significa un limite alla democrazia perché per chi dovrà raccogliere le firme nel periodo natalizio sarà davvero un'impresa, ma anche un problema per andare a votare alla partecipazione dei cittadini. Ma la cosa più grave è che uno spreco perché la legge del 2011 prevede l'Election Day che le date delle elezioni vengano accorpate durante l'anno. A maggio ci sono le elezioni europee, le elezioni amministrative e buonsenso vuole che non si buttino nella finestra 6 milioni di euro per andare a votare nel periodo più freddo dell'anno. Davvero non c'è ragione. Tra l'altro voglio ricordare che in questa maniera non è che si favorisce qualcuno ad anni di un altro. Noi non siamo assolutamente simpatizzanti del PD, lo combattiamo da quando è nato, però diciamo a Movimento 5 Stelle e Centrodestra che maggioranze e opposizioni in regione si dovrebbero mettere d'accordo. Ricordo il Centrodestra che l'altra volta addirittura la legislatura regionale è stata allungata di mesi per fare l'Election Day. Adesso sembrano tutti averlo dimenticato per convenienza di partito. E lo chiedo anche 5 Stelle. Hanno come bandiera i costi della politica e dopodiché stanno zitti e fanno passare l'idea che sia normale buttare dalla finestra 6 milioni di euro. Io ricordo i tanti tagli al sociale che ci sono stati in questa regione e credo che 6 milioni di euro è meglio spenderli per i bisogni delle cittadine e dei cittadini e non per calcoli da politicanti. Indirettamente è collegato a questo discorso c'è anche quello dei vitalizi, dei consiglieri regionali. Se ne parla tanto, domani ci sarà proprio il Consiglio regionale. Lei vuole fare un appello? Beh, io spero che tutti votino a favore per le proposte di abolizione definitiva e quindi di calcolo contributivo e soprattutto anche del cumulo dei vitalizi. Sono cose che noi sosteniamo da tempo. Domani io credo che sarebbe un'ottima giornata per l'Abruzzo se il Consiglio abolisse i doppi vitalizi e anche i vitalizi futuri. Tutto quello che si deve fare è che noi abbiamo sempre sostenuti, anzi fumo i primi, e che poi voti tutto insieme di un indirizzo al Presidente Lolli e al Governo di andare alle elezioni con l'Election Day risparmiando 6 milioni di euro. Tutta la politica regionale, dai 5 Stelle al PD al centrodestra, ne guadagnerebbe in credibilità. E per una volta potremmo dire a tutti bravi e brave al posto di lamentarci. Purtroppo però vediamo che c'è una irresponsabilità fino a questo momento e questo ci preoccupa.